Sicuramente abbiamo lottato, abbiamo lottato contro una squadra che è messa molto bene in campo, che è riuscita a iperbolare i nostri lati negativi. Credo che comunque noi abbiamo lottato, forse meritavamo qualche cosina di più. Il nostro grosso demerito forse è non aver gestito bene la fase centrale del secondo sede, dove avevamo un po' di vantaggio e forse lì avremmo dovuto fare qualcosina in più. Complimenti. Qualche cosina in più, però è così la pallavolo. Dovevamo rilassarci subito e non abbiamo trovato le energie. Abbiamo sempre combattuto, questo sicuramente. La squadra a carattere ha dato tutto quello che poteva e di questo ne sono orgoglioso, quindi non ho da recriminare niente a nessuno. Credo veramente che oggi Budovlani abbia fatto una grandissima partita e complimenti veramente perché hanno fatto, come ho già detto più volte, una grandissima partita. Per me è un'idea straordinaria. Siamo rimasti un po' allibiti all'inizio perché avere dei grandi schermi, dei mega schermi accanto al campo pensavamo di essere fastidio. A me personalmente non ha dato fastidio, non sono le giocatrici, però non ha avuto feedback negativi. Il focus era sulla partita, quindi credo che sia quel qualcosa in più per provare a dare al nostro sport ancora quell'attenzione che meritiamo. Quindi complimenti all'idea. Secondo me è funzionato molto bene. È una cosa interessante.